pace bene cari fratelli e sorelle benvenuti a questo nostro nuovo incontro vangelo meraviglioso del cammino dei discepoli di emmaus ecco è un cammino quello dei discepoli nei quali possiamo tranquillamente specchiarci e da questo vangelo così bello in particolare ci lasceremo guidare da due domande da due punti il primo all'inizio i discepoli non riconoscono gesù che cammina con loro quando è che non lo riconoscono dunque quando è che noi spesso non riconosciamo la presenza del risorto accanto a noi due alla fine i discepoli riconoscono il signore dov'è che lo riconoscono questo ci fa chiedere dov'è che riconosciamo e incontriamo il risorto e quali sono le conseguenze di questo incontro bene tuffiamoci in queste domande in questo testo ecco all'inizio i discepoli sono in cammino si stanno allontanando da gerusalemme è interessante gesù ha detto che sarebbe risorto il terzo giorno siamo proprio nel terzo giorno questi due non hanno neanche la pazienza di aspettare questo terzo giorno eppure hanno saputo già dalle donne che è accaduto forse qualcosa di speciale di particolare gesù si fa loro accanto e questi due stanno parlando interessante il verbo greco dice che si stanno catechizzando l'uno con l'altro come dire due che parlano senza ascoltare ma è una catechesi all'insegna della tristezza dello scoraggiamento gesù si fa loro accanto vedete interessante lo stile di gesù gli chiede ma di cosa parlate gli fa tirar fuori ciò che hanno dentro e da qui capiamo qual è il loro problema raccontano tutto per filo e per segno di gesù ma a un certo punto guardate cosa dicono noi pensavamo che fosse lui a liberare israele cioè loro hanno le loro idee e la loro attesa su gesù non hanno capito quello che gesù ha loro annunciato non hanno capito la vita e lo stile di cristo non hanno capito e accettato la croce il fatto che il signore abbia dovuto dare la vita abbia sofferto fedelmente donandosi fino in fondo per ognuno di noi per loro gesù doveva fare altro doveva agire politicamente doveva dare benessere a tutti doveva risolvere i problemi in un altro modo questo gli impedisce di vedere gesù vedete questo problema delle false idee su dio della falsa attesa su dio è il problema alla radice di tutti gli altri pensiamo già una persona lontana tante volte lo incontriamo per la strada persone che dicono ma io in questo dio che fa soffrire la gente e io non voglio credere ma la risposta a questa affermazione o questo tipo di affermazione da parte di un cristiano dovrebbe essere ma manco io credo in questo tipo di dio dio è uno che si dona che ama fino in fondo è un dio fedele fino alla fine ma non è un amuleto che risolve i problemi non è un corno portafortuna non è l'assicurazione contro gli infortuni è amore forze sostegno e conforto e misericordie che non si sostituisce a noi dunque vedete la falsa idea di dio sia per chi è lontano ma purtroppo anche per chi è in cammino perché è difficile lasciarci convertire nel pensiero dal vangelo quante volte la croce diventa il momento dell'abbandono della fede ma come io sono in cammino io prego io cerco di fare del bene e poi soffro e poi questa malattia e poi ho perso il lavoro e poi è morta questa persona a me cara e dio dov'è ma che dio è ma allora non serve a niente ecco quante volte come diceva don tonino bello la croce la portiamo al collo ma non pende sulle nostre scelte non l'abbiamo fatta nostra non è un nostro stile di vita questo ci fa interrogare cari fratelli e sorelle il problema dei discepoli di emos è quello di essere prigionieri del loro attese su dio e a cosa li porta questo ad allontanarsi da gerusalemme dal luogo dove c'è gesù dove lui aveva detto che lo avrebbero incontrato ma non solo li porta ad allontanarsi dalla comunità infatti questi due da soli si stanno allontanando da tutti in preda alla loro tristezza schiavi delle loro attese si allontanano da dio e dai fratelli quante volte i momenti di sconforto i momenti in cui le cose non vanno come avremmo voluto o anche nei momenti in cui gli altri non sono stati come avremmo pensato voluto ci portano ad allontanarci ma questo ci fa riflettere perché l'isolamento non è da dio isolarmi da dio e dagli altri allontanarmi dalla comunità è un brutto segnale non è una cosa che viene da dio perché dio è comunione non è divisione il divisore satan è un altro come vedete gesù li rimprovera duramente stolti duri di cuore ma non avete capito e gli apre la mente alle scritture a capire che lui doveva soffrire doveva dar la vita altrimenti era tutta una barzelletta da una parte l'amore che dio ha per noi dall'altra la libertà che ha dato a ognuno di noi doveva passare da lì secondo punto ma dov'è che poi riconoscono gesù quando lo invitano in casa e in casa gesù spezza il pane questo spezzare in questo segno di comunione in questo segno del donare in questo segno che gli ricorda l'ultima cena quando gesù spezzando il pane disse questo è il mio corpo cioè questo sono io la domanda per noi è dove dunque che noi riconosciamo vivo e presente il signore risorto in mezzo a noi semplice nell'eucaristia dove che gesù prima ci spiega le scritture e poi spezza il pane e si rende riconoscibile ed è lì presente nascosto in questo segno come nel vangelo che poi scompare alla loro vista e nell'eucaristia nella santa messa vedete dov'è che incontriamo gesù il risorto concretamente è lì tanti dicono ma gesù è ovunque dio ovunque sì certo che dio ovunque è vero ma la seconda persona della trinità gesù cristo fisicamente concretamente presente è nell'eucaristia nella messa questo ci fa chiedere ma noi con quanto amore partecipiamo all'eucaristia è diventata una triste abitudine durante la messa pensiamo a tutto tranne a quello che dice sacerdote quando riceviamo gesù ci raccogliamo in preghiera parliamo un attimino con lui lo abbiamo capito che lui è lì presente spesso magari alcune persone un po più lontano i giovani lamentano la noia che uno magari deve attraversare ma guardate non si deve aver paura di dire che prima cosa le cose giuste da fare nella vita non sempre sono facili a volte bisogna anche fare un piccolo sacrificio e due nell'eucaristia almeno in due momenti è importante raccogliersi no durante tutta la messa è chiaro ma io vi sto parlando per aiutare uno più lontano o uno giovane giovane uno durante il vangelo e l'omelia perché lì è gesù che ci sta parlando nella sua parola e poi sacerdote ci annuncia come viverla due nella consacrazione e quando si riceve in bocca gesù lì bisogna raccogliersi nella consacrazione perché dio scende sull'altare e quando riceviamo l'ostia perché quello non è un pezzo di pane che ci ricorda gesù ma è gesù è dio gesù ha detto questo è il mio corpo cioè questo sono io e quanti miracoli eucaristici ci aprono il cuore a renderci conto che non è una favola ma è un grande e meraviglioso mistero qual è il frutto del ricevere l'eucaristia i fratelli ritornano e fanno di nuovo comunione con la comunità ecco l'eucaristia infonde in noi i sentimenti di cristo e ci aiuta ed è vera quando facciamo e viviamo nella comunità troppe volte purtroppo l'eucaristia nelle chiese diventa quasi il piorito a cui partecipare come il benzinaio ho fatto il pieno arrivederci a tutti e poi magari sono diviso sparlo guardo male l'uno l'altro l'altra e non riesco a far comunione no se io ricevo la comunione la conseguenza è che faccio comunione chiediamo allora al signore questa grazia uno di fare attenzione alle nostre false attese che ci allontanano da dio e nell'ora della croce non allontanarci ma cercare ancora di più gesù il dio crocifisso e risorto due a vivere con amore l'incontro vivo con lui nell'eucaristia e che ci porti e ci aiuti a essere davvero comunità pace e bene